Art Basel, la fiera d'arte di Basilea, uno dei poli mondiali più importanti del settore, battezza una mini fiera a Hong Kong nonostante il coronavirus. Si chiama Hong Kong Spotlight e ospita fino a lunedì 22 gallerie locali. È un tentativo di mantenere vivo il marchio Art Basel durante la pandemia, in collaborazione con Fine Art Asia. Tra le gallerie ci sono nomi che hanno già partecipato ad Art Basel e che hanno una filiale a Hong Kong. La piattaforma virtuale non è ancora una soluzione, anche se aiuta. Fino ad oggi questa è la soluzione per il mercato dell'arte, ma ovviamente vedrei nel prossimo futuro, spero breve, uno sviluppo parallelo su piattaforme online. A volte il percorso reale e quello virtuale potranno incontrarsi, altre si svilupperanno individualmente. L'evento inizia nello stesso momento in cui Art Basel ha annunciato il posticipo della fiera madre Art Basel Hong Kong da marzo 2021 a maggio 2021. Insomma, dopo tre edizioni cancellate nel 2020, Art Basel usa prudenza e ritarda i tempi, cercando nel frattempo di non farsi dimenticare.